Buongiorno, siamo presso lo stand di Zambelli ad Anugafutec, sono in compagnia del signor Cimarelli, responsabile dell'area vendita per il Nord America. Buongiorno signor Cimarelli, vuole presentarci quella che è la produzione Zambelli, perché siete ad Anugafutec? Allora, Zambelli produce macchine confessionettrici fine linee dedicate alla industria dell'imbottigliamento. Quindi tipicamente le fardellatrici e le incartonatrici fra Brown. Le fardellatrici sono quelle macchine che confezionano le bottiglie, le lattine in film termoretraibile. Quelle confezioni con maniglia che compriamo normalmente al supermercato, molto diffusissime in Italia. L'azienda ha oltre 40 anni di esperienza e è considerata tra le aziende leader in questo settore. Oggi ci troviamo ad Anugafutec perché attraverso alcuni progetti, attraverso una ricerca specifica verso altri settori ci stiamo avvicinando e stiamo entrando nel settore alimentare dove vengono richieste delle macchine che come base possono essere ricondotte alle nostre, ma poi hanno delle personalizzazioni leggermente diverse perché il mercato del food richiede alcune soluzioni tecniche differenti. Naturalmente, voi esportate, evidentemente siete qui. Sì, noi esportiamo la maggior parte della nostra produzione. Quali manifestazioni fieristiche, oltre ad Anugafutec, avete in programma per quest'anno? Quest'anno parteciperemo al PAC Expo di Las Vegas. Negli Stati Uniti, nel Nord America, quindi Canada, Stati Uniti e Messico, Zambelli è presente da più di dieci anni. Per noi è un mercato molto importante perché è un mercato, quello nord americano, che riconosce il valore tecnico aggiunto di Zambelli rispetto alla nostra concorrenza. Qualora dovesse presentare la produzione Zambelli ad un nuovo cliente, su cosa punterebbe rispetto alle caratteristiche del prodotto rispetto alla concorrenza? Allora, sicuramente siamo in grado di offrire una soluzione altamente personalizzata. Zambelli rispetto ai nostri concorrenti, è un'azienda di dimensioni più contenute. Può veramente prendere per mano il cliente e condurla a una soluzione. Questa è una delle nostre caratteristiche, anche perché la proprietà è di estazione tecnica e quindi il nostro prodotto è un prodotto tecnico, per cui non si vende perché ha una bella estetica o presenta, non so, dei bei colori, eccetera. Si vende perché rappresenta una buona... Perché deve essere performante. Dallo standing Zambelli è tutto, buona giornata.